La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha posto sotto sequestro 26 tonnellate di pellette destinato al mercato italiano e privo delle indicazioni prescritte dal Codice del Consume potenzialmente pericoloso per la salute. Ad attirare l'attenzione dei finanzieri sulla strada statale 106 Ioni che è impegnati in un posto di controllo stradale è stato il transito di un auto articolato condotto da un cittadino di origine albanese ma residente in Italia. Dopo aver bloccato l'automezzo gli uomini della Guardia di Finanza ed identificato il conducente hanno iniziato i preliminari controlli della documentazione relativa al carico trasportato rilevando la presenza di segature essiccate e compressa in forma di piccoli cilindri. Lo scarso valore commerciale del prodotto non sembrava gestificare un trasporto oneroso pertanto i finanzieri sempre sul posto hanno proceduto ad una approfondita ispezione del mezzo dove hanno rinvenuto oltre 26 tonnellate di pellet prive di indicazioni utili ai fini informative di sicurezza per il consumatore. L'assenza di indicazioni sul prodotto va ricordato che impedisce l'effettivo riscontro della qualità del bene e della sicurezza d'uso. Il pellet non certificato potrebbe essere infatti composto da scarti di legno da uso industriale trattato con colle e vernici e la sua combustione potrebbe provocare gravi intossicazioni. Infatti l'attuale normativa proprio per scongelare tali rischi e pericoli nell'uso di questo combustibile sempre più diffuso impone dettagliati obblighi di informazione e certificazione della qualità, origine e provenienza a tutela dei consumatori. Pertanto le 26 tonnellate di pellet rinvenute sono state sottoposte a sequestro ed i responsabili sono stati segnalati agli organi competenti.